Buongiorno a tutti, 7.05 martedì 17 ottobre ben ritrovati qui su Crystal Radio e in diretta anche su Milano News dagli studi di Milano News in quelli San Siro per una nuova puntata di Good Morning Milano. Ciao Milano. Oggi non c'è Polpone. Oggi abbiamo puntata, se tutto va bene, pregna di ospite. Non lo dire, ecco, l'ha detto. Adesso facciamo due ore di assegna stampa perché oggi danno buco e non riusciamo a collegarci. Ma no, ma perché devi andare tu da tempesta magnetica? No, 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 andrà tutto bene, ma soprattutto andrà bene se voi fate quello che fai tutti i giorni in realtà. Però ciò scrivete, ma soprattutto tutti i giorni ci mandate i vostri messaggi. 331-7853-555, Whatsapp, Buongiorno, Foto, quello che volete. E ricordatevi che noi siamo in diretta da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, qui su Crystal Radio 96.2, in FM, in streaming, sull'app, sul sito, in Dab Plus. E se ci volete vedere, ci potete vedere sul profilo Twitch di Milano News. Ieri ho comprato una radio Dab. Era in scontissimo su Amazon. Quanto? Piccolina, 32 euro. No, piccolina, 32 euro, portatile, ma anche da stare. Cioè, bellina, la puoi tenere in casa pure quattro pile e te la porti in giro. Hai appena comprato un giro a dischi. Sì, l'ho installato ieri sera. Tino Luna Araba e ho visto i tuoi occhi illuminarsi di gioia. Bella, bella. Erano dello streaming che utilizzavo nel 2020, che è diverso da quello di adesso, che aveva il wrap. Cosa aveva? E sai, che alla fine anno ti fa resoconto. Questa era tipo nelle top 5. Hai capito. Perché mi piacevamo. Eh, il Carmen Consoli è pazzesca. Sì. Anche qua. Ti piace? A me piace molto. Anche con la pesce di Martino mi piace. Vi consiglio di andare a vedere, credo su Amazon, sì, su Amazon Prime, il film molto strambo, strano, particolare, quasi onirico in certe parti, molto comico in altre, molto basico in altre, molto ricercato in altre. Tutto questo in un'oretta di cosa. Dateci un'occhiata. Non dovete aspettarvi il film su Pink Floyd, o chissà quale opera magna. Però, insomma, va bene. A vedere. Stavamo parlando, appunto, delle candidature. Vediamo Gini Loro. Sono 200 il lista. Sono un po' toccato perché non ci sono i nostri nomi in questa lista. Non ancora. Un po' mi risento. Un po' mi risento e chiedo... Sono di capigruppo, vero? Che di lenca, non si dire. Allora, abbiamo avuto qui. Il capogruppo della Lega poteva fare il nostro nome. Scusa, già che era qua. Eh, ma perché è troppo... Poi, Verdi, Gorini, il capogruppo? O Monguzzi? Uno dei due, comunque. Monguzzi li ha scritti su Facebook. Eh, ho capito. Già che c'era, potremmo mettere i nostri nomi. Carlo, potevi, già che c'eri. Poi abbiamo anche una notizia su Monguzzi che riguarda Bagliamonti. Ah, ok, ok. Allora, ricordiamo quindi, appunto, se cerchiamo il titolo, Massimo Boldi, Cristian Vieri, Marrakesh, Imoda... Toto Cotugno mi sono dimenticato. Toto Cotugno. Se invece non cerchiamo il titolo, appunto, Dan Peterson, l'associazione Walter Vinci, che abbiamo avuto i nostri microfoni più volte, se non sbaglio, così come l'associazione Garivo, per quanto riguarda il giardino dei giusti, tante altre realtà... Mi sembra, però, che si stia facendo un po' di confusione, secondo me, con queste Amborgino d'Oro. Perché alcune candidature sembrano quasi delle candidature alla carriera. E l'Amborgino d'Oro, però, non dovrebbe essere il premio alla carriera, dovrebbe essere il premio a una carriera in atto. Cioè, nel senso, tipo i Modaben, vengono, c'è, poveretti, niente di contro. Però ormai non sono proprio più sulla breccia, sulla cresta dell'onda. Ma anche altre... Tra che, se non sbaglio, ci sono anche della gente che è defunta, mi sembra, l'Amborgino d'Oro, la memoria. Cioè, l'Amborgino d'Oro, per quello c'è il famedio, ci sono altri premi, no? Mi sembra che, insomma... Guido Nicheli, in arte, Dughi, 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 Dughi. Ad esempio, però, mi vorrei dire, l'Amborgino d'Oro, diamone invece a chi sta a fan dai mani adesso. Cioè, chi sta facendo andare le mani adesso. Chi sta facendo qualcosa di Milano adesso. Dopodiché, vengono anche quegli altri nomi, ma sono... Alla carriera, va bene. Allora, o ci inventiamo un Ambrugino d'Oro alla carriera, però uno, non 34 quanti anni, ogni anno. Se no, insomma, io starei più su gente che fa tutte le mattine qualcosa per la città di Milano, ad esempio. Tutte le mattine vieni in radio, racconta la città di Milano, e tutte le mattine, dalle 7 alle 9, su Cristal Radio vi racconta Milano. Ad esempio, eh. Comunque, per concludere seriamente la notizia, staccato da tutto questo discorso, carriera non carriera, ricordiamo che è stata anche proposta la benemerenza, la memoria per Giulia Tramontano, la giovane uccisa Senago, sappiamo benissimo cosa è successo questa estate. Questo lo scindiamo da tutto il resto del discorso, chiaramente, per quanto riguarda l'Ambrugino d'Oro. E nel caso, non lo so. Non lo so. Secondo me, però, non è questo l'Ambrugino d'Oro. Lo dico proprio qui, senza conto di Giulia Tramontano, anzi, super solidale con tutta la causa e una vicenda pazzesca che si spera non dover riascoltare mai. Però, secondo me, ripeto, non è quello l'Ambrugino. L'Ambrugino d'Oro è il premio per chi a Milano ha fatto cose e le sta facendo e continua a farle. Questa è la mia idea. Black Eyed Peas, guarantee 7.25 minuti, stiamo avvicinandoci alla fine della prima mezz'ora e fa poco c'è la pausa, no? Vi ricordo che potete scriverci al 331-78-53555 e potete scriverci un po' quello che state facendo. So che molti ci state ascoltando, continuano a scrivere messaggi sul mio numero e dico, no, dovete scriverlo al 331-78-53555. Ad esempio, mi hanno scritto poco fa che, ah, che bello, Rubemilanotte, i pinguini tattici, li ho visti, no? Tania ci ha scritto che li ho visti, a Bergamo, che bello. Ok, scrivici. 331-78-53555. Quindi siamo solo contenti. Se ci scrivete il WhatsApp sul numero della radio, vi ricordo il numero che, tra parentesi, va bene anche per le altre trasmissioni. Quindi, dopo di noi, potete continuare a scrivere anche ai nostri colleghi. E adesso, come vi dicevo, andiamo un attimo in pausa perché è il momento della mezz'ora, qualche consiglio e poi ancora un po' di buona, bella musica. A fra poco! Siamo qui, dicevo, siamo qui su Cristian Radio e su Milano News per appunto leggere un po' le informazioni e le notizie che arrivano dai giornali. Cosa c'è, buon Lorenzo, sui giornali di oggi? Allora, oltre alla vicenda che mi ha detto prima degli ambrogini d'oro, notizia di giornata che non ha a che fare, cioè che ha a che fare solamente marginalmente con Milano, è quella che riguarda le Olimpia di Milano-Cortina 26. Perché? Perché ha marginalmente? Perché ha a che fare con la pista da Bob, che si doveva tenere in Veneto. Ok, sì, giusto. A Cortina volevo fare... Ricordi che poi c'è però c'è gli ambientalisti, che non va bene, e poi non si riqualifica, eccetera. Infatti, ieri il presidente del CONI ha detto che non si fa più e l'Austria ha già avanzato la sua candidatura, quindi sostanzialmente siamo riusciti a farci scappare anche la pista da Bob. Quindi, io dico sicuramente una cosa, vogliamo i grandi eventi e poi nel gestirli... È chiaro che un grande evento porti dei danni... Finito? È normale, ne hanno parlato anche al Forum del Clima. Sì, però posso dire una cosa, allora è vero, no, è un problema che può avere. Infatti, bisogna avrebbe pensarlo prima. Dopodiché, l'idea di andare in Austria a fare la pista da Bob, o meglio, a usare molto bene la pista da Bob, che c'è già, mi auguro, non a farla nuova, perché sennò questa sarebbe follia se la fanno nuova. Mi auguro che invece utilizzino una già fatta. Non è così strano. Nella candidatura di Helsinki, perché sapessi che gli altri erano Helsinki, c'eravamo noi Helsinki, in una candidatura di Helsinki il salto con gli sci veniva fatto in Lettonia. Dall'altra parte del mare. Quindi è abbastanza normale ormai. Ieri ne parlavamo, l'altro ieri parlavamo degli europei di calcio, ad esempio, che sono Italia-Turchia quest'anno, ma che l'ultimo invece l'hanno fatto itinerante così. Mi viene da pensare che forse anche le Olimpiadi, ormai bisogna pensarle su una larga area geografica. Cioè non possono più essere Atlanta, Milano, Seul. No, non puoi più fare una cosa così. Più che altro perché tiri su un sacco di infrastrutture che poi appunto non sai riqualificare, eccetera. Non puoi farlo. Puoi fare Sud Europa, forse. Europa generale, forse andrebbero fatte così. Forse andrebbero fatte così. Nel Europa centrale come risico. Europa centrale, sì. Camciacta vogliamo fare nel momento in cui tu avanzi una candidatura, per me è normale, è di buon senso che tu abbia già un planning, siccome adesso... Delle che ce l'hanno, è quello il problema. Eh, lo so, però il problema è che la... Cioè, la prima cosa da guardare... Se a me domani dicessero, in Bovisa si fanno le Olimpiadi, tu devi organizzarle. Io la prima cosa che faccio è controllare che tutto sia il più possibile, sostenibile, riqualificabile, eccetera, perché so che quello è quello su cui mi possono attaccare, su cui mi possono far saltare le cose, eccetera. Che poi bastava sinceramente... Perché creare, dire, perché anche questa qua è un'altra roba che mi rimane un po' qua. Dire tutte le volte, ma anche adesso, eh, ma si creeranno 3.000 posti di lavoro, dico dei numeri a caso, non pulisce poi le altre cose. I grandi eventi funzionano se li fai su strutture che già esistono, che al massimo mettiamo un attimo a posto, e la grande forza economica è sull'indotto, cioè quello che ci sarà intorno, quindi, gli alberghi, gli hostess, gli steward, quelli che andano a lavorare per Olimpiadi. Sulla costruzione è tutto, io ormai non ci credo più, è una favola che non ha proprio più senso di esistere. Tutti questi posti, lavoro sul prima, no, 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 non ci credo più, non ci credo più. Andiamo con un po' di musica, torniamo un po' dietro nel tempo, e soprattutto in un piccolo tempo, perché loro sono i Tiro Mancino, con appunto un grande classico della musica, Un piccolo tempo. Un tempo piccolo, Un tempo piccolo, il Tiro Mancino, grande canzone di Franco Califano. Vi invito a cercare anche la sua versione, perché è tutta un'altra atmosfera, però è di una poesia, è veramente un poeta Califano, come punto di vista. Califano, qualora i ragazzi lo riscoprissero, sono sicuro che piacerebbe moltissimo. Sì, 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 molto moderno, molto attuale. Cioè, com'è che si chiama, oddio, è balla è qualcosa, in cui sostanzialmente lui racconta che lei va a ballare, cioè no, che vanno a ballare assieme, poi lui si stanca, è tutta parlata, torna a casa, lei rimane lì a ballare, e quando torna dice, no, guarda, sono stanco perché voleva... Perché tanto Califano, cioè, in testa quello c'avevo. Però devo dire che, a differenza del personaggio, che magari sembrava un po' sopra le righe, un po', insomma, vabbè, comunque un po' poco atto, diciamo, cioè il personaggio sembrava un po' così, in realtà le sue canzoni sono completamente il contrario, sono molto, molto, cioè questa qui veramente intra, come piace a noi, piano piano, in punta di piedi. Sempre in punta di piedi, tutto si fa in punta di piedi ormai. Prego, prego Masieri. Torniamo... Torniamo alle notizie. Allora, Carlo Monguzzi. Radio Carlo Monguzzi. Ma non, cioè, non solamente lui, però, lui pubblica una foto della pagina del Corriere della Sera, che un po' come la zia l'ha detto al parrucchiero della figlia, eccetera, in cui sostanzialmente denuncia il fatto che il Comune non stia prendendo delle decisioni che favoriscano la mobilità sostenibile in quanto appunto il Corriere della Sera dedica una pagina con un articolo dal titolo Bici, Milano perde il primato, una città, un rischio pedalare in città. La ricerca di lega ambiente praticamente ha mostrato che gli spostamenti su due ruote sono calati del 33% rispetto allo scorso anno. Tantissimo. Mi sembra che solo il 3% di spostamenti in città sono fatti in bicicletta, se non mi ricordo male. l'ho letto dell'articolo appunto del Corriere che Monguzzi ha pubblicato ieri. I ciclisti in Italia aumentano ma a Milano diminuiscono. Purtroppo sappiamo in parte quali sono anche le cause di questa controtendenza, no Fabio? Sicuramente la sicurezza è un tema fondamentale, neanche più viene da dire la sicurezza percepita, perché qui stiamo andando proprio di sicurezza reale, di problemi veri e di ciclisti che ahimè rimangono poi per terra sull'asfalto della nostra città. Leggo letteralmente in un anno gli spostamenti in bici sono calati del 33% questo Carlo Monguzzi Europa Verde, le persone hanno paure e chiedono un piano di sicurezza, le cose da fare a Milano sono chiare, concrete e realizzabili nel tempo, comune di Milano esci dal letargo, fai qualcosa. Ricordiamo Carlo Monguzzi comunque interno alla maggioranza. Personalità della maggioranza. Chiediamo sempre, ci facciamo sempre un po' questa domanda, ma quindi questa maggioranza su cosa si regge? Chiudiamo. Sui tigli che non ci sono più? A proposito di tigli, sempre Carlo Monguzzi poi chiudiamo, noi chiaramente non è che ce l'abbiamo con Monguzzi, no anzi, noi prendiamo spunto e siccome è tra... Meno male che c'è, meno male che... Per fortuna che Carlo c'è. Noi prendiamo spunto dai suoi posti siccome pubblica tanto eccetera, è molto critico, diciamo non... non sono i classici posti di elogio a ciò che viene fatto, anzi lui tira su... Qua giù pesante. Esatto. I Garanti del Verde tra virgolette scrive Monguzzi abbiamo chiesto un intervento dei Garanti del Verde nominati dal sindaco perché si opponesse all'abbattimento dei due tigli in piazza Bagliamonti come è chiesto da tutto il consiglio comunale dai cittadini. I Garanti del Verde hanno risposto che si sarebbero informati. Cioè i Garanti non sapevano, dice. Cioè si sarebbero informati. In Caps Lock c'è un limite alla presa in giro. Ecco. Vediamo con un po' di musica Peggy Goo It Goes Like Peggy Goo It Goes Like Na 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 mi piace sempre questo titolo da disannunciare perché insomma questo na 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 così va bene comunque 7 e 48 minuti siete sempre qui all'ascolto di Crystal Radio con le voci suave e lentamente in punta di piedi che entrano nella vostra quotidianità. Questa cosa di punta di piedi mi piace anche perché io non sono capace di andare in punta di piedi. Solo faccio caso. Non ho il bilanciamento non ho vado giù sì sì vado giù Riprendiamo con la rassegna stampa gli ultimi gli ultimi come possiamo dire articoli gli ultimi sì gli ultimi dovevo trovare una metafora una metafora alta ultimi articoli allora Milano Today Maxi Controlli della Polizia Milano ritirate 42 patenti nel corso del weekend i polizioti hanno fermato oltre 200 automobili sottoposti i conducenti all'alcol test quindi questo per quanto riguarda la sicurezza il vento è cambiato finita la pacchia no credo ci siano sempre stati c'è 200 controlli in una città non lo so 200 controlli ma non sono pochi però non sono neanche normali sono nella media dei controlli che fanno vengono i controlli sull'alcol assolutamente tolleranza zero sempre per quanto riguarda la sicurezza blitz in serata delle forze dell'ordine in piazza Angilberto Alessandro Verri su Facebook capogruppo della Lega che è stato ospite ai nostri microfoni la settimana scorsa e vi invitiamo a recuperare sui nostri social l'intervista molto interessante due settimane fa insieme a Emanuela Bossi altra consigliera della Lega qualora il nome non mentisse infatti ma non credo siano parenti no non lo so però comunque il nome è d'arte esatto il nome è d'arte non credo ho incontrato il questore di Milano al quale abbiamo segnalato le criticità in cui versano le periferie milanesi specie quelle in cui l'amministrazione sala ha deciso di realizzare le folli piazze tattiche ieri sera per la seconda volta nel giro di pochi giorni le forze dell'ordine sono intervenute nuovamente in maniera massiccia per riportare ordine e civiltà allora lungi da me difendere il sindaco e le piazze tattiche soprattutto che trovo anche abbastanza inutili a volte ma devo dire che altre piazze tattiche invece sono alquanto utili hanno veramente risvegliato alcuni quartieri e soprattutto in alcune di queste mi viene in mente un paio di piazze tattiche nella zona di Nolo si è fatto un bel anche lavoro di educazione all'utilizzo di queste piazze perché qual era il problema c'erano i ping pong la gente fino alle 4 del mattino ping pong ping pong ping pong niente i comuni insieme ai municipi hanno fatto proprio degli incontri dove hanno anche spiegato ai cittadini come sfruttare al meglio queste piazze tattiche quindi usarle in certi orari per certe cose anche come usarle per proporle ad esempio grazie ai pizza che il comune ha creato queste possibilità di fare eventi per poche persone senza dover chiedere grossi permessi piccolo evento piccola burocrazia piccolo evento burocrazia bravissimo Gaglia Romani doveva chiamarmi a fare il claim è vero doveva chiamare adesso diciamo ma se sono i romani chiami Masieri a fare il claim comunque queste piazze secondo me sono importanti sono giuste da fare ma bisogna fare quello che appunto ad esempio ha fatto proprio Gaglia Romani nella zona di Nolo insieme al municipio quella di educare all'utilizzo perché non vuol dire educare la popolazione no educare all'utilizzo cioè educare all'utilizzo di una cosa io non è che ti do in mano il mio giradischi non è che lo prendi e lo usi così se non sai come funziona il giradischi guardi i libretti istruzioni la patente ti do la patente in mano no ti faccio la scuola la patente e ti dico fai la patente fai l'esame compagnia bella anche una piazza tattica bisogna imparare a usarla ok assolutamente noi ci faremo una piccola pausa fra pochissimo torniamo qui sempre in diretta sempre per raccontarvi un po' Milano la città metropolitana è tutto quello che ruota intorno alla grande Milano assolutamente 8 e 7 appunto dicevo oggi martedì 17 ottobre abbiamo un collegamento un momento importante Lorenzo a te la parola seconda ora l'ora degli ospiti oggi siamo in collegamento con Francesca Brizzi per parlare di un'iniziativa in programma per giovedì 19 e non solo buongiorno Francesca ciao a tutti buongiorno allora ti chiediamo subito di presentare un po' Job Meeting poi arriveremo all'evento assolutamente allora ciao a tutti buongiorno è un piacere iniziare questa giornata con la musica con la musica tutti i giorni e devo dire che dà veramente una bella una bella carica allora io sono Francesca come ha già detto Lorenzo social media e community specialist di Cessu Special Consulting Company che organizza il famoso Job Meeting Network ovvero il primo supporter dei giovani laureati per la ricerca attiva del lavoro il che significa che tutto quello che facciamo ha come obiettivo quello di far trovare il lavoro dei sogni alle centinaia di ragazzi e ragazze che fanno parte della community di Job Meeting fanno i miracoli fate i miracoli bellissimo ma chissà probabilmente sì c'è anche un po' un pizzico di magia dietro a quello che pensiamo probabilmente sì appunto essendo io la social media e community di e community specialist di Job Meeting significa che ogni volta che i ragazzi e le ragazze ci scrivono comunque interagiscono in direct con noi dietro le risposte che diamo c'è quello la mia faccia e la maggior parte delle volte il mio sorriso e quello di Infederita che lavora con me nel team social di Job Meeting innanzitutto Lorenzo grazie davvero per avermi ospitata oggi per noi grazie per il contatto con realtà come la vostra che si rivolgono e sono composte da giovani è davvero sempre fonte di preziose opportunità e di ispirazione facendo un piccolo passo indietro rispondendo tra l'altro alla tua domanda Job Meeting è una delle più grandi community e network di eventi d'Italia dedicati a studenti universitari laureanti laureati ma anche giovani professionisti che sono comunque alla ricerca della propria opportunità professionale infatti gli eventi di Job Meeting offrono lo straordinario vantaggio di entrare in contatto diretto proprio noi creiamo diciamo del tutto per creare un ponte diretto tra i ragazzi e il mondo dell'azienda ma comunque anche quello di vivere esperienze in momenti di incontro e soprattutto networking essendo la nostra una community appunto con esperti anche del mondo del lavoro per affrontare comunque possiamo dire con green tali ingressi in questo mondo che a volte sappiamo tutti noi essere un pochino complesso e allora entriamo nel dettaglio dell'evento in programma per il 19 il Job Meeting Milano Francesca allora sì oggi sono qui per parlarvi del Job Meeting Milano che possiamo dire il nostro evento di equitabilità che ci sarà giovedì il 19 ottobre al BAS Milano che immagino conoscerete conoscerete bene dalle 9.30 alle 6.30 è un evento in questo caso organizzato con il patrocinio del Comune di Milano ed è in collaborazione con Sealing che è la prima platform experience dedicata al mondo del lavoro partiamo dall'aspetto più importante di questo evento allora partecipare al Job Meeting Milano significa comunque appunto come accennavo prima entrare davvero in contatto diretto in questo caso con i recruiter di oltre 35 aziende che parteciperanno di entità nazionale e multinazionale fra le quali posso citare ad esempio Alma Viva Car for Italia call in Serious Face su Mune di Milano Italia Online poste italiane umana e questo come potete capire significa che davvero saranno tanti durante l'evento i settori rappresentati e ancora di più chiaramente le opportunità lavorative offerte per tutti i profili di laureate e laureate dalla consulenza all'energia dal digital all'information l'elettronica la farmaceutica la chimica insomma il marco di digital ce n'è un po' per tutti 35 aziende e coprono tutto l'arco del mondo del lavoro quindi una bella opportunità per chi viene appunto al job meeting esattamente noi quando diciamo ai nostri ragazzi ribadiamo spesso all'interno dei nostri social che i nostri eventi soprattutto noi facciamo eventi di tipo virtual e in presenza in questo modo questi che ci vedono presenze nelle principali tappe d'Italia che vedono i principali comunque universitari d'Italia come ad esempio Milano i nostri eventi sono per tutti perché è davvero così ci sono opportunità per più profili professionali e per iscriversi come si può fare? come funziona l'iscrizione appunto a questo job meeting di giovedì? allora iscriversi tra l'altro è davvero semplice perché in due minuti basta andare sul sito www.jobmeeting.it slash Milano è molto semplice in realtà l'ho reso un po' complesso creando il proprio profilo e inserendo il proprio curriculum mi raccomando aggiornato e registrati all'evento del job meeting Milano quindi ripeto il sito www.jobmeeting.it slash Milano ad ogni modo per recuperarlo basta andare sui nostri canali social dove ogni giorno pubblichiamo dettagli e comunque aggiornamenti sull'evento e quindi mi raccomando ragazzi seguiteci anche lì per non perdere tutti i vari appuntamenti tra l'altro la piattaforma online dell'evento è già accessibile quindi basta vi potete già registrare e entrare all'interno della piattaforma online per vedere già quali saranno tutti i tuoi preferiti e i vari appuntamenti della giornata chiarissimo il tempo è tiranno quindi dobbiamo andare molto veloce però so che quest'anno avete un nuovo format il futuro è Z e non parliamo della formica Z stiamo parlando di altro in questo caso giusto? immagino la generazione non lo so oppure c'è un'altra Z di cui dobbiamo sapere allora Z in questo caso si rifà alla generazione Z che è per lo più diciamo il target di età la fascia di età che in questo momento si sta facendo in maniera attiva comunque alla ricerca del lavoro e infatti come come c'è il Navi quest'anno il GioMeet in NEP il GioMeet in Milano torna con un format rinnovato e comunque ricco di novità appunto dal titolo il futuro è Z carriere, linguaggi, l'evoluzione incentrato appunto sulle esigenze sui dubbi che la generazione Z si pone nei confronti del lavoro in particolar modo appunto nel momento di uscita dal percorso di laurea dal percorso di università questo format è appunto stato creato con l'obiettivo di rispondere alle tante domande che ci vengono fatte dai giovani sui social ogni giorno noi ne riceviamo sui nostri canali che sono spesso chiaramente in preda comunque all'ansia comunque ai dubbi quando si parla di un ingresso in azienda confermo confermi esatto Lorenzo conferma ma penso che tutti noi possiamo a prescindere dall'età possiamo davvero confermare voi due siete la prova però che tutto funziona siete due genzettasi quasi siete giovanissimi entrambi tutti stanno lavorando quindi non potete lamentarvi voi ecco mi raccomando prima hai parlato appunto di ansia di entrare nel mondo del lavoro ma soprattutto vi dicevi portate il curriculum e portatelo a giornato ma ho visto nel programma delle cose che potete fare che c'è comunque anche una sorta di check del curriculum giusto come funziona esatto allora a giorni a giorni in Milano chiaramente appunto il punto principale dell'evento è quello del contatto diretto con il mondo dell'azienda ma ci sono davvero tanti momenti di formazione e formazione durante la giornata ad esempio come dicevi durante tutta la giornata quindi dalle 9.30 alle 16.30 sarà possibile recarsi al corner CV Check di Umana in cui ci saranno esperti delle esperte dell'area politiche attive e area orientamento che faranno una consulenza personalizzata quindi one to one di circa 10 minuti con il curriculum dei partecipanti quindi suggeriranno come rendere più di affilio il proprio curriculum in modo tale da presentarsi al meglio poi agli stand delle varie aziende con un curriculum davvero davvero super insomma è un po' come quando prima di partire per le vacanze vi da il meccanico a sistemare la macchina ma qui prima di andare a parlare con le aziende passate a far vedere da Umana il curriculum così siete sicuri di arrivare giusti poi ai vari 35 giusto diciamo 35 aziende che sono presenti all'interno del job meeting appunto di giovedì 19 è un'ottima metafora la tua grazie grazie ve la regalo ve la regalo così a gratis sono molto contento che ti sia piaciuta ma sono tantissime quindi le cose appunto da tenere in mente e magari appunto possiamo ricordare che comunque c'è un sito su cui possiamo andare a ricapitolare tutto quanto giusto? esattamente www.giornimiti.it slash milano trovate tutti i dettagli lì e soprattutto la modalità la semplice modalità con la quale iscrivervi all'evento iscrivetevi in massa iscrivetevi gente iscrivetevi accorrete accorrete gente accorrete moderno molto moderno questa che si chiamano fare social cta col tu e poi arrivo io che sembro vota Antonio vota Antonio vabbè è così che funziona dai Francesca grazie mille allora ci vediamo giovedì a questo punto noi veniamo e te lo dico così cerchiamo un lavoro anche a Masieri perché finiranno la licenza quindi devo trovare un lavoro nuovo va bene ricordiamo ancora bene l'appuntamento Francesca allora dacci tutte le coordinate prima di salutarci allora potete seguirci sui nostri canali social di John Meeting e lì troverete tutte le nostre informazioni ma soprattutto potete farci davvero tutte le domande nel caso tutte le domande che volete perfetto Francesca grazie mille per esserti collegata con noi e niente ti ringraziamo e ci auguriamo buona giornata e speriamo che sia un bel evento dai sicuramente lo sarà anzi a giovedì allora a giovedì adesso entriamo in un momento internazionale puntata ricca l'hai detto puntata ricca è e ce l'ho fatta perché abbiamo al telefono Daman un signore indiano che è partito dall'India dove vuole arrivare ha imbarcato la sua macchina una macchina degli anni 50 una MG del 1950 era imbarcata era portata a Dubai e da Dubai via terra sta andando a Londra e questa notte era qua a Milano ciao Milan ciao Daman ciao Daman ciao Daman so you ride the car from Dubai to London and you pass through the Milan this night right? yes we have been driving since 15th of August all the way from India to Dubai Iran Turkey and then Eastern Europe and now we are in Milan ok allora abbiamo qui con noi la nostra Irene della regia cioè della redazione grazie mille Irene che ci fa da traduttrice allora cosa diceva adesso Daman che ha fatto il 15 di agosto sono partiti giusto? esatto sono partiti il 15 di agosto sono arrivati a Dubai e stanno facendo questo viaggio fino a Londra passando appunto via terra via terra but the question is one why why you want to make this trip? you have to be a little crazy to do something like this or you have to be very passionate like the Italians so I I am very passionate for my Lal Pari which is you know a red angel literally if you translate the name I have had this car since I was three years old and it has been part of my childhood I got married in it so for us Lal Pari is like family l'Alpari sorry I got to translate l'Alpari è la macchina che usano non ha MG Alpari rossa diceva cosa Irene? che lui possiede questa macchina fino a quando aveva sei anni bisogna essere molto un po' pazzi per intraprendere questo questo viaggio oppure dice appassionati come gli italiani appassionati come gli italiani esatto e mi diceva poi che in questa macchina lui c'è cresciuto perché è una macchina di suo padre giusto? è come se si sentisse un po' sposato con questa macchina un po' come se fosse sua moglie ok and now you you made a trip alone or with some other people? so no this is part of our family and my whole family is with me so my father my daughter my wife and two friends we are all traveling together because again like italiani we all celebrate everything with our family ok dicevi Irene scusa chi sta viaggiando appunto con la sua famiglia quindi è in compagnia di suo padre sua figlia e anche sua moglie e stanno intraprendendo questo lungo viaggio insieme cioè tutta la famiglia quindi tutta la famiglia si sta muovendo si sta muovendo con questo lungo viaggio e quanto è la famiglia la famiglia è la famiglia di che anno la famiglia è una lmg certo? lmg in quale la famiglia è la famiglia la famiglia la famiglia è la famiglia 1950 è una 73 anni è una una molto piccola è solo 1.2 litri e 46 horsepower engine which is the maximum speed you can reach? 60 km is the maximum 60 km and average we do about 35 km per hour and we do about 250 km per day what do you think about Milan? yesterday evening you meet the consulate here in Milan and have encountered the consulate indiana here in Milan what do you think about Milan? since we are traveling we just had a very short two hour period in Milan where we drove through it is the architecture and the people you know the architecture was very beautiful and all the people are very smartly dressed unfortunately for us because we are so many people you will be surprised to know that we are traveling with only three pairs of clothes so the Milanese was curious about your trip I suppose yes because we just drove a little bit on the streets and people are very fascinated when they see a car from india with india number plate and first they think that you know we have shipped the car and then when we tell them that we have actually driven they are very surprised and they are very happy to see a car like this on the road ok you know Daman we tell you that when he arrived to Milan he is very fascinated by the structure and the architecture of Milan and that people have been very hospitable in their confrontations and especially that they are surprised to see a car indian from the 50 which is very strange in the 50 we invite to see it's a red car like a Ferrari yes and the only thing is it is one tenth or even lesser speed than a Ferrari yeah ho detto che è rossa come una Ferrari è l'unica cosa che è già in comune perché va molto molto più lenta di una Ferrari ma la cosa più incredibile è che stanno viaggiando con soli tre paia di vestiti ah ecco grazie Irene per aver trovato questo faccio questo ma di vestiti ma insomma meno male ho fatto di peggio il campione è un'altra parte di peggio ma per me è una piccola little Ferrari è molto preciosa per noi come ogni Ferrari diceva che ovviamente questa non è una Ferrari ma per lui è la sua piccola Ferrari Daman thanks very much for this story thanks very much for this trip and thanks very much for pass through the Milan yesterday night and I hope that you make the better the trip you can do thank you so much for talking to us and sharing our small little journey with your audience thank you very much thank you so much thank you Daman Justin Keel Mike Towers e Ozuna con Whisky y Coco non ho capito qual è il titolo che è il cantante Whisky y Coco Whisky y Coco è il titolo i cantanti sono Justin Keel Mike Towers e Ozuna torniamo a parlare di cose serie si torniamo a parlare di cose serie oggi è martedì ricca martedì è il giorno di Walter Cherubini qui ai nostri microfoni presidente di consulta periferia Milano buongiorno Walter buongiorno a tutti buona giornata allora Walter periferie c'è sempre da parlare delle periferie c'è sempre qualcosa di interessante sulle periferie di cosa vogliamo parlare oggi sta arrivando un weekend importante per le periferie giusto diciamo così che dopo le giornate fai dell'altro giorno appunto questo prossimo fine settimana da venerdì a domenica ci sono le giornate periferia un nome un pochettino più complesso e sconosciuto comunque per conoscere antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese attraverso che cosa attraverso il legame con i relativi beni artistici architettonici paesaggistici e museali anche perché abbiamo una costellazione di musei spesso poco conosciuti nella cintura periferica di Milano quanti eventi ci sono in un programma più o meno questo weekend e che tipo di eventi perché ne abbiamo parlato spesso ma non sono eventi non sono il solito convegno dove si chiacchia sono sopra luoghi accompagnati esperienziali diciamo per prendersi cura nel senso che i luoghi che poniamo all'attenzione grazie innanzitutto alla disponibilità attualmente di 47 realtà associative enti quindi è una una platea discretamente ampia sicuramente si può allargare se pensiamo che i fazzoletti di terra che compongono la cerchia periferica milanese sono 166 quindi diciamo che ci sono margini di miglioramento e chi vuole migliorare far conoscere il proprio territorio perché il tema è proprio questo che il territorio milanese ma l'abbiamo visto anche in occasione di questo centenario degli antichi comuni di milanesi e attraverso ormai più di 50 conferenze che abbiamo fatto sul tema che i milanesi non conoscono Milano e allora non conoscendo Milano alcune volte non se ne prendono nemmeno cura e grazie appunto per il weekend di Periferia Artami invece si può proprio andare a conoscere questi angoli di Milano giusto? Allora possiamo andare sul sito periferiaartami.it e qui c'è in linea il calendario con tutti appunto oltre 20 appuntamenti che possono andare da situazioni abbastanza particolari come la chiesetta di San Giorgio che apre via Cristina di Belgioioso verso Mind e che è lì diroccata ormai da decenni questo per dire appunto non sono visite guidate per andare a vedere o le cose belle e chissà che razza di cose ma è per andare a vedere la composizione del nostro territorio e quindi se c'è qualcosa di bello lo apprezziamo pensiamo al museo della macchina da scrivere in via Benabrea in zona Farini che è aperto nel pomeriggio di venerdì sabato e domenica quindi un'occasione di andare con 600 macchine da scrivere esposte anche una che scrive batte meglio in cinese pensa a te c'è proprio una la macchina da scrivere di Hemingway di Montanelli insomma grazie a Umberto di Donato salutiamo Umberto che è la grande anima di questo anima corpo spira dorsale e anche finanziatore che è importante anche questa cosa poi magari ci legheremo alle questioni dei finanziamenti oppure appunto dicevamo invece alla chiesetta di San Giorgio in Cristina il Belgioioso quindi il tema è quello di conoscere e prendersene cura e anche di divulgare tutte queste cose perché il museo della macchina da scrivere ha 600 macchine esposte ma ne ha 1600 nel sotterraneo mettiamolo in questa maniera e credo che sia il più grande museo della macchina da scrivere poi ci sono anche dei luoghi diciamo così più particolari come il cimitero di guerra che c'è il parco di Treno il cimitero di guerra americano e quindi anzi del Commonwealth e quindi è un momento anche di riflessione è un momento di silenzio ma anche di riflessione visto anche gli andamenti che ci sono attualmente allora vedere quella proprio sterminata eh sì un grande campo pieno di croci bianche di lapidi bianche con anche ragazzi giovanissimi quello rende anche un pochettino l'idea di come possono stare le cose quindi di non dare per scontato le condizioni che noi abbiamo ma c'è qualcuno magari che dice anche rammesso ricordiamo che tutto questo non sono semplici scampagnate perché si fanno insieme poi a delle persone e a delle realtà che raccontano molto bene quello che è il territorio e ce lo fanno appassionare anche per questo territorio direi che ci sono le realtà che sono presenti normalmente bravissimo normalmente fanno un'attività e quindi hanno deciso anche di entrare in questa iniziativa da una parte sono un significativo sostegno perché l'iniziativa si svolge tutto con la disponibilità volontaria delle persone non sono visite guidate quindi non vi aspettate la visita guidata classica perché quello le fanno le guide turistiche e quanto mestiere noi non ci sovrapponiamo assolutamente ma noi apriamo diciamo così degli squarci di territorio che non sono conosciuti oppure che si sa che ci sono pensiamo come anche alla Certosa di Milano in Garegnano dove noi poniamo l'attenzione sulla Certosa di Milano ma per far conoscere il toponimo Garegnano dove tantissimi passano uscendo entrando dall'autostrada ma non sanno che lì esiste una cosa significativa preziosa da vedere e un territorio anche da preservare Prima di parlare di finanziamenti c'è una cosa importante che è l'art bonus ma ne parliamo subito dopo una piccola pausa musicale perché siamo qui su Cristal Radio alle 8.45 minuti è il momento di Good Boys con Bongo ciao 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 Walter abbiamo parlato appunto che abbiamo nominato poco fa l'art bonus che cos'è e che cosa può portare appunto l'art bonus per le periferie anche magari no? ma potrebbe essere interessante come ricaduta l'art bonus è uno strumento che è stato introdotto dal punto di vista fiscale quindi chi fa donazioni oltre 20 euro a tutta una serie di enti che hanno la possibilità di raccogliere questi fondi hanno una detassazione del 65% adesso al di là del tecnicismo però è una modalità di mecenatismo chiamiamolo così e quindi di apprezzamento del lavoro che stanno facendo anche tutta una serie di realtà e che quindi hanno la necessità di avere anche un sostegno economico siccome i soldi sicuramente girano e quindi possono girare tra virgolette male possiamo spendere buttarli via in giochi strani mettiamoli in questa maniera e invece possono essere anche dedicati a aiutare la cultura e la cultura esattamente ha un arricchimento per tutti quanti ecco nel contempo diciamo che finora l'art bonus ha premiato chi? ha premiato le realtà più conosciute e quindi in capo a tutti se non rammento male c'è la scala di Milano ma questo è nell'ordine delle cose ecco questo però che cos'è che comporta che se ci sono delle risorse che prima non erano nei piani di distribuzione arrivano e arrivano anche a determinati enti ecco che allora si possono aprire degli spazi per quella iniziativa culturale sul territorio che normalmente non si conosce ma c'è noi continuiamo a dire che abbiamo mappato e sono visibili sul sito periferiamilano.com le realtà culturali presenti fuori dal centro al cerchio milanese quindi parliamo di oltre 100 teatri parliamo di più di 60 biblioteche quasi 200 tra associazioni e centri culturali e anche oltre 20 musei come dicevamo prima sparsi per il territorio ecco che allora anche una politica diciamo così istituzionale comunale può siccome c'è qualcuno come la scala che riceve da una parte sicuramente magari alcune risorse che erano dedicate ma sono adesso coperte dal mecenatismo possono essere maggiormente dedicate perché sono veramente risicate le risorse che vengono proposte date anche a chi promuove cultura sul territorio periferico e ricordiamo ci sono circa 400 realtà che promuovono cultura ecco questo ci consente di maggiormente evidenziare anche le giornate per i periferi armiti di cui dicevamo prima proprio perché questo aiuto ad avere una conoscenza della città ma anche cercare di avere una decisione politica che consenta di partire diciamo anche a guardare le cose dalle periferie della città dai confini della città invece che sempre partiamo un po' dal centro e poi si arriva anche in periferia quando si arriva in periferia che è l'80% della città diciamo che si fa un po' fatica si arriva in affatto perché se partiamo là c'è arrivi stanco arrivi stanco esattamente dobbiamo fare il contrario partendo dalla periferia da un centro vabbè anche se arrivo stanco ma tanto siamo in tanti che ne abbiamo in centro quindi dobbiamo fare il contrario il tema della città attrattiva è sicuramente importante ma la città abitativa è quella che quotidianamente 365 giorni all'anno è all'opera in una maniera o nell'altra consente anche di accogliere la città attrattiva e di mantenere la città attrattiva città attrattiva che è famosa Milano per le varie week per le varie settimane a tema diciamo sta arrivando non l'hanno chiamata week no ma sta arrivando una rassegna una manifestazione appunto a che fare con la musica giusto? musica diciamo che è una puntata piano lovers che si terrà questo fine settimana esattamente sabato 21 alle ore 16 diciamo non è propriamente in periferia perché è l'auditorium San Fedele via Oepoli e quindi ci sono pianisti in concerto e ci saranno musiche le più ampie da bacca classico romantico e moderno l'ingresso è gratuito ok con una mail all'area cultura chiocciola fondazioneabitiamo.it ecco comunque l'iniziativa promossa appunto da Il Clavicembalo Verde con il patrocinio del municipio 9 quindi ecco è un'occasione per andare ad ascoltare della musica e anche diciamo così pianisti amatoriali che però non pensiamo che siano dei pianisti di secondo di secondo livello secondo momento perché magari nella loro vita hanno deciso di fare altre cose poi si sono appassionati successivamente sono appunto dei piano lovers sono gli amanti del piano quindi c'è stata anche una la premiazione qualche tempo fa al conservatorio e quindi persone che suonano molto bene ecco è un'occasione interessante ricordiamo dove Walter? all'auditorio San Fedele in via Wepli 3 barra B quando? sabato 21 ottobre alle ore 16 21 ottobre alle ore 16 invece le giornate periferi artmi appunto tutto weekend cominciano venerdì mattina e si chiuderanno domenica ricordo anche tra le altre cose la chiesa dei Santinereo Achilleo dove troverete qualcosa di particolare sicuramente andate a vedere sul sito comunque periferiartmi punto it questi nuovi quadri 12 nuovi quadri grandi ciascuno 5 per 4 metri quindi 20 20 metri di grandezza dipinti con il sistema delle icone e quindi una cosa molto particolare con i cicli della quaresima e dell'avvento ecco sicuramente sarà una una occasione interessante e nuova perfetto allora Walter ti ringraziamo come sempre ci vediamo di nuovo ci riascoltiamo ci rivediamo di nuovo martedì prossimo tante le cose da dire sulle periferie sempre periferie all'opera periferie all'opera bello questo è un nuovo slogan dovremmo metterlo sul sito della consulta ricordiamo il sito periferiemilano.com grazie a tutti